Il governo non è cosciente di che è presente sul territorio nazionale. Abbiamo fatto entrare di tutto e di più con la favola renziana e di Alfano che ci raccontavano che tra gli immigrati clandestini non potevano nascondersi dei terroristi. Perfino nella giornata di ieri Zanier, dell'OSCE, certifica che all'interno di queste rotte si nascondono dei possibili terroristi. Potrebbero nascondersi, perché poi non abbiamo evidenza. Mi sembra che un'evidenza ci sia stata per esempio su Parigi, dove uno degli attitatori ha percorso proprio la rotta balcanica. Rotta balcanica che passa anche attraverso il nostro paese, perché ricordo che il confine orientale, io provengo dal Frivo Venezia Giulia, è confine con l'abrodo di arrivo principalmente di pakistani, afghani, terza nazionalità, pensate, marocchini. Cioè noi abbiamo la terza nazionalità che è arrivata con fine tra i stessi sono marocchini, la famosa guerra del Marocco. È palesemente un'immigrazione di carattere clandestino. Purtroppo all'interno queste irregolarità si celano, si nascondono e crescono paura, perché ad esempio questi presunti terroristi vivono all'interno di un cara, quindi fanno proselitismo all'interno di queste persone dei possibili terroristi che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Grazie. Grazie.